Il nuovo ospedale di comunità di Ragusa sorgerà nei locali dell'ex cardiologia del presidio Maria Paternarezza a Ragusa Ibla. Ieri mattina alla presenza del direttore generale dell'ASP, dottor Giuseppe Drago, del direttore sanitario aziendale, dottor Raffaele Lie e dall'assessore alla sanità del comune di Ragusa, Giovanni Iacono, è avvenuta la consegna dei locali alla ditta giudicataria che si è impegnata a concludere i lavori entro la fine del 2025. L'importo è di 2,4 milioni di euro. Si tratta di fondi a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Il responsabile unico del procedimento è l'architetto Maddalena Di Martino. L'intervento prevede la ristrutturazione di circa 1.100 metri quadri di superficie e la realizzazione di due aree funzionalmente distinte. Una è destinata alla degenza per un numero complessivo di 20 posti letto, con camere di degenza dotate di servizi igienici e locali di servizio a supporto, tra cui ambulatorio medicheria, sala medici, infermeria, sala pranzo degenti e soggiorno visitatori. L'altra è destinata all'accoglienza, accettazione e alla riabilitazione. Sarà dotata di hall d'ingresso con attese spazio reception, che introduce all'area riabilitativa dotata di una palestra completa di spogliatoi e servizi igienici, sale e ambulatori per attività riabilitative individuale, area per fisioterapisti e personale medico, sala per psicologo e assistente sociale.